La prima classificata, il bar Il Muretto, la squadra che c'è il palco, vorrei un attimo Marco e Davide a fianco a me, che premiano i ragazzi. La squadra un po' più a centro, così avete la foto. Grazie! Allora, il miglior giocatore, Mario Finto, Mario Il Muretto. Adesso il premio, quindi la squadra Bar Il Muretto, prima classificata, l'assessore. Grazie! E adesso andiamo avanti con la seconda classificata, la squadra Bar Acuda. Grazie! Grazie! E chiamiamo alla miglior giocatrice, Versolini, Mietta. Grazie! Premio, il sindaco. Grazie! Terza classificata, la squadra Isola Verde. Grazie! 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 Il miglior portiere Gianluca Baldi Squadra Isola Verde E premia l'assessore colonnello Lizza Grazie 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 Grazie